Allora eccoci, buongiorno, ci troviamo a via Francesco Montebruno, nel cuore di Malassi, in un appartamento davvero affascinante, disposto su due livelli, che adesso vi vado ad illustrare. Dall'ingresso, con porta blindata, ci portiamo direttamente verso la zona giorno, con cucina open space, molto bella, e sala da pranzo, un'area come vedete molto aperta, luminosa e personalizzabile. Strapito, procedendo poi, in questo splendido immobile, troviamo una delle tre camere disponibili, perché anche questa è molto ben sfruttabile, eccola. Con la sua finestratura, e il primo dei due bagni, con doccia, questo, completo, e un comodo ripostiglio. Su questo livello, come possiamo vedere, insiste una meravigliosa scala in legno, la percorriamo interamente, e troviamo una grande area soppalcata, molto, molto luminosa, e caratterizzata da un soffitto in legno, con treve originali e lucernai velox di ultima generazione. In quest'area troviamo altre due ampie camere, questa è la prima, col suo velox, ovviamente, la magliatura a muro, aria condizionata, in tutte le stanze, questa è la camera padronale, anche questa dotata di aria condizionata e velux, è un'armadiatura a scorrimento, che vedete qui, salva spazio utilissima, quindi si recupera lo spazio dalla mansarda, e, io la definisco così, una vera sala da bagno, stanti le dimensioni, con vasca idromassaggio, questa è doppio velox addirittura, sanitari sospesi, come vedete, il livello delle finiture è impeccabile, quindi come possiamo notare, l'immobile è uno stato manutentivo, paragonabile al nuovo sostanzialmente, con finiture ed accessori di pregio, il riscaldamento, intanto che poi riguadagniamo il livello inferiore, è termo autonomo, è presente l'ascensore, gli infissi sono tutti doppio vetro, a taglio termico, e non sono presenti barriere architettoniche, completano poi la già ricca dotazione, un posto auto di proprietà, di generose dimensioni, in contesto privato, con cancello, e accesso diretto dal condominio, qui all'esterno possiamo trovare, il balcone, comodissima esposizione sud, quindi un'esposizione molto felice, prende il sole tutto il giorno sostanzialmente, quindi ricapitolando, al primo livello abbiamo la cucina, open space, sulla sala da pranzo, che è questa, ripostiglio, bagno, il primo con la doccia, e camera, al secondo livello, al secondo livello, abbiamo, dove si accede appunto tramite questa scala, un altro bagno completo di vasca, la zona studio, e le due camere, e direi, che qui, la nostra visita, in questo splendido appartamento, si può concludere, che gu antiqu desperately, sono otro,